Il penne torna in campo per riscattare la sconfitta maturata al Gran Sasso a Concia, non senza qualche rimpianto. Deve farlo nonostante qualche assenza pesante, almeno negli undici da avvio. Cacciatore, Silvestri e Difazio fuori per problemi fisici, Rossi e Fulvi per squalifica. Recuperato invece Basualdo. Di fronte c'è il capistrello di mister Giordani, che arriva al colangelo di penne, orfano di Daniele Di Girolamo e di capitano Edoardo De Meis. Dopo due minuti il penne va qualche centimetro dal vantaggio, punta di guerra, ma il palo rispute il pallone indietro e dice che si resta sullo 0-0. Almeno fino al quattordicesimo, quando Viegas barriga, si incarica della battuta di una punizione dalla tre quarti. La deviazione di Fantauzzi beffa Di Girolamo e manda il penne in vantaggio. Per venti minuti non succede nulla, ma Cellucci al trentaquattresimo elude la marcatura di un paio di difensori e deposita in rete per il 2-0 pennese. Il capistrello però reagisce e si riversa in avanti. Prima Direnzo calcia dal limite, ma non trova la porta. E poi, al quarantesimo, Fantauzzi rimedia l'autocol precedente e in una mischia in area batte un incolpevole d'amico. 2-1. Dall'altra parte, Cutiglia e Guerra si ostacolano dal limite. La palla sfiora comunque il palo. Con le riprese di mano il centurame passiamo al secondo tempo, che si apre con un palo colpito da Direnzo, direttamente da corner. Solo uno spavento per d'amico. Al venticinquesimo, scambio dall'alto valore tecnico tra medaglia e Viegas barriga, che porta Cacciatore alla conclusione. Ma il numero 20 non è preciso. Punizione di Paulucci al trentasesimo. La barrera salta, la palla passa, ma d'amico blocca senza problemi. Dopo quattro minuti finisce così. Il penne batte il capistrello 2-1 e lo condanna alla seconda battuta d'arresto consecutiva.